Ed eccoci alla pagina sportiva, è stato effettuato oggi il sorteggio per quanto riguarda gli ottavi di finale di Europa League, non è andato certamente bene per le squadre italiane che si ritroveranno con un doppio derby italo-spagnolo. Alla Roma sono capitati la formazione del Sevilla, mentre all'Inter è capitato il Getafe. Ricordiamo che queste tre squadre, il Sevilla è al quinto posto nella Liga Spagnola, mentre il Getafe è terzo. Le gare di andata si giocheranno tra due settimane. E' tutto per questa edizione della Sera di Speciale News Web 24. Grazie per essere stati con noi. Prossimo appuntamento con il nostro telegiornale, come sempre, domani mattina alle 9 con Weekend Sabato. Buon proseguimento di serata.